L'amicizia con Mauro è iniziata nel 1977 in un'aula della Facoltà di Lettere di Firenze occupata durante appunto le giornate del marzo del 77 e fu appunto Luigi Marinelli che mi presentò un giorno questo strano signore che assomigliava un po' a Majakowski che aveva questa pettinatura capello corto e mi disse guarda questo è Mauro Martini è una persona che vale la pena conoscere, io lo guardai, c'era questo sigaro in bocca un'aria un po' strana, però i consigli di Luigi Marinelli li ho sempre tenuti in gran conto quindi anche questo e da lì poi ci si vide poi i giorni successivi nella facoltà occupata ci si veniva a parlare, avevamo interessi abbastanza simili e insomma nacque questa amicizia questo rapporto molto stretto del quale ovviamente non è mi facile parlare ho detto consulente editoriale nel titolo del mio intervento perché appunto io dal 1989 ho cominciato a un certo punto a lavorare nell'editoria la mia vocazione sarebbe stata molto simile e questo forse eravamo simili con Mauro sarebbe stato quello di fare appunto il flaner, insomma bighellonare tra una cosa e l'altra però a un certo punto bisogna appunto trovarsi un lavoro quindi come lui a un certo punto si piegò al fatto di fare il professore universitario io mi sono a un certo punto piegato alla necessità di fare un lavoro più stabile e cominciare nell'89 a lavorare alla Feltrinelli come redattore e da lì poi non ho mai abbandonato l'editoria e comunque devo dire che da allora, dal 1989, Mauro mi è sempre stato accanto è stato un consigliere, a dirà appunto dell'amicizia ovviamente un consigliere straordinario il mio lavoro se lo riguardo a ritroso sarebbe stato impossibile senza questo scambio che era quasi quotidiano con Mauro la telefonata, la lettera, poi la mail non c'è stata decisione che io abbia preso che non abbia avuto prima un confronto con Mauro non abbia tenuto conto del suggerimento di Mauro non c'è stato libro importante, pochi che io abbia pubblicato, ho deciso di pubblicare senza che Mauro avesse dato il suo assenso e lo stesso vale per le poche cose che anche personalmente ho scritto tutto quello che io scrivevo, Mauro lo leggeva tutto quello che Mauro scriveva, lo leggevo era veramente un rapporto di scambio molto forte oggi che lui non c'è, tra l'altro appunto proprio nel momento in cui Mauro cominciò, si palesò la sua malattia era il momento in cui io stavo decidendo di cambiare casetrice e ovviamente mi consultai, Mauro è stata la prima persona a saperlo e mi disse vai vai bisogna cambiare eccetera eccetera e devo dire che però questo lavoro che ho intrapreso a partire da maggio alla Bollati Boringhieri è un lavoro molto difficile perché Mauro mi manca molto mi sento veramente un po' solo quando scelgo qualche cosa, qualche libro quando devo scegliere un autore eccetera eccetera cerco sempre di chiedermi cosa direbbe Mauro cosa penserebbe Mauro ma chiaramente non è così facile capirlo anche perché Mauro come tutti noi non era una persona coerente anzi spesso gli piaceva stupire nel senso ti aspettavi che ti dicessi una cosa e ti diceva esattamente il contrario dopo una settimana gli dicevi ma scusa non mi avevi detto questo e ti diceva il contrario eccetera eccetera ma era anche un suo modo anche arguto e intelligente di intervenire e di interagire con il mio lavoro io diciamo in parallelo al mio lavoro e alla nostra amicizia ci sono delle lettere sono 287 lettere che chiaramente un giorno forse gli eredi decideranno se vogliono di pubblicarle non sta certo a me prendere questa decisione però visto che oggi abbiamo parlato degli scritti di Mauro devo dire che queste lettere almeno queste lettere a me indirizzate sono a suo modo un genere letterario molto particolare Mauro riusciva in una in una lettera di sembra abbastanza sobrio 50-60 righe mai di più a metterci dentro talmente tante cose che veramente leggendole oggi insomma devo dire che non l'avevo mai fatto l'ho fatto appunto alcune settimane fa preparandomi a questo incontro sono rimasto stupito di quante cose riuscissi a comunicare in un piccolo in un piccolo spazio di comunicazione come può essere appunto una mail una lettera queste lettere appunto hanno accompagnato il mio lavoro negli ultimi anni soprattutto contengono consigli riflessioni pareri anche quando Mauro nel 2000 cominciò a lavorare anche sul mio suggerimento a Leinaudi continuò ovviamente a consigliare a darmi delle dritte a confrontarsi con me su varie scelte di questo tipo una cosa prima di di parlare di queste lettere vorrei dire che penso che veramente abbia ragione Luigi Marinelli quando dice che Mauro non era uno slavista è un'etichetta che gli sta veramente stretta Mauro era un intellettuale molto particolare il suo amore per la Russia e la sua capacità di comprendere la Russia effettivamente andava a pescare in quella strana in quello strano gruppo di persone che che in Polonia pur avendo la Russia come diciamo si tra virgolette nemica si sono sempre dati da fare perché la Russia invece venisse considerata un paese fondamentale la sua letteratura venisse considerata non un obbligo scolastico imposto da un paese diciamo si occupante ma come invece una delle espressioni più alte della cultura mondiale i nomi Mauro Luigi li ha fatti ma penso per esempio al libro di Valizki che fu popolato alle Naudi sullo slavofilismo un libro fondamentale penso che nessun russo sarebbe stato in grado di scrivere un libro del genere sulla Russia sulla cultura russa questo isolato signore polacco era riuscito a sintetizzare perfettamente questo discorso insomma critico sullo slavofilismo c'era un altro libro che Mauro diceva sempre che gli sarebbe piaciuto aver scritto lui cioè che invidiava diciamo si l'autore e che comunque è stato il suo credo libro di riferimento ed è un libro di un tedesco che si chiama Gross e che fu pubblicato anche questo alle Naudi tanti anni fa ed era si intelava significativamente la Russia e l'autocoscienza europea un libro che Mauro aveva sempre come riferimento proprio perché appunto come diceva prima da Scarpellini Mauro pensava che se non si ha un'idea forte non si può scrivere un libro allora tutto il suo sapere e Mauro aveva un grande sapere che spaziava come ha detto prima il professor Malcovati dal cinema alla musica alla letteratura alla sociologia eccetera in realtà tutti questi vari interessi che lui aveva tutte queste informazioni che spesso uno si chiedeva anche dove le andasse a prendere spucciando giornali più improbabili eccetera avevano un momento di sintesi proprio perché Mauro credeva fermamente che ci vogliano delle chiavi per leggerle il mondo cioè che è necessario avere delle idee forti ma non nel senso diciamo si dei cappelli con i quali diciamo si soffocare la realtà ma appunto delle tracce attraverso le quali poter compiere un percorso di conoscenza e la Russia e l'autocoscienza europea era per lui è stato per lui il libro diciamo si fondamentale che poi appunto anche per tutti i suoi amici i nostri amici polacchi appunto da Miknik a Herling eccetera era stato un libro rivelatore insomma questa idea appunto che comunque la Russia è un problema dell'Europa insomma è che l'Europa è un problema della Russia io ho fatto così ho scelto dalle da alcune sue lettere dei piccoli pezzetti che mi servono a far capire alcune cose insomma chiaramente sono piccole citazioni così però vedrete subito come appunto in uno stile anche dedicato a una comunicazione privata Mauro avesse veramente una grandissima lucidità c'è una lettera da cui vorrei partire ed è una lettera del 15 dicembre del 99 Mauro appunto stava per diventare nell'autunno del 2000 consulente per le Naudi caro Francesco rimediati un po' i problemi di salute rimediati un po' i problemi di salute domata la pressione la pressione del problema di Mauro negli ultimi anni anche se durante le vacanze natali dovrò stare rigorosamente a dieta e perdere un congruo numero di chili torno a occuparmi di questioni di lavoro e quindi del Berdiayef di cui avevamo parlato qualche settimana fa per la biografia non ci sono problemi due punti 29 siti su internet più qualche volume consentono di compilarne un assolutamente esoriente se il volume è ancora in progetto è ancora in progetto avrei bisogno di qualche informazione in più eccetera qui nacque appunto l'idea di ripubblicare questo volumetto che era già in realtà già uscito in italiano all'interno di una raccolta più grossa pubblicata all'inizio degli anni settanta dalla Yechabuk che comprendeva vari saggi ecco c'era anche questo saggio di Berdiayef che lì era stato tradotto gli spettri della rivoluzione russa Mauro insistette molto affinché nonostante anche lo scrittore polacco Gustav Erling avesse usato fosse rimasto molto affascinato da questa idea degli spettri Mauro insistette molto perché invece noi traducessimo la parola russa però non mi ricordo gli spiriti perché gli sembrava molto leggermente più neutro rispetto alla parola spettri sapesse meno di cadavere nell'armadio e comunque lo considerava questo piccolo libro cioè questo piccolo libro è un saggio è letto al libro per ragioni editoriali scritto appunto quando la rivoluzione russa stava ancora diciamo si bruciando come una sorta di chiave per capire tutta la Russia cioè la Russia sta cambiando c'è la rivoluzione Berdiayef guarda a quelli che sono diciamo così le ombre che che questa rivoluzione si porta con sé che non e che non riuscirà a eliminare insomma e quindi nacque questo libro qui dove appunto chiedemmo a Erling di 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 darci il suo saggio per per l'introduzione purtroppo appunto Erling fu una delle ultime cose che scrisse per noi infatti il 14 luglio del 2000 Mauro scrive immagino sia stato dolorosamente colpito e travolto dalla morte di Erling io tutto sommato ne sono rimasto più sorpreso mi sono accorto di essermi fatto l'idea che non dovesse morire mai che sempre a Napoli sarebbe vissuto un anziano scrittore polacco che ogni tanto avrebbe fatto girare un suo libro di tanto in tanto bisognerebbe essere più attenti nei confronti della realtà il problema è che non riesce facile del 3 settembre 2000 c'è un esempio secondo me fantastico di scheda volante di come lui appunto riusciva a darti l'idea di un libro mi sono mi sono consentito ampie letture e smaltendo da telescritti per le naudi ho sguazzato in parecchia merda con l'unica eccezione dell'ultimo romanzo della Lulitzkaia viaggio nella settima parte del mondo uscito nei fascicoli agostani agostano e settembrino del Novimir e forse ancora migliore di Medea che già non malvagio ho perso anch'io del tempo con Akunin il romanzo non è un granché e in Russia ha successo solo perché dà una patina di cultura a un genere popolare di grande successo come il giallo l'operazione è un po' l'equivalente di quella a suo tempo orchestrata da Eco con il nome della rosa e non a casa Akunin nasconde un dottissimo professore Akunin ama i pasticci letterari l'altro anno per esempio ha riscritto il gabbiano di Chekhov facendo evolvere la vicenda in maniera ben diversa dall'originale come tutto ciò possa essere capito in Italia rimane per me un mistero resta tra le mani un giallo di non eccelsa fattura cui vengono prestati nel risvolto di copertina che è abbastanza comico padri più o meno nobili Tolstoi e Dostoyevsky ma trattandosi di un russo anche Camilleri ma strano trattandosi di un russo anche di Camilleri e Moltenban chi l'avrebbe mai detto il problema eccetera eccetera in una lettera successiva al 2001 viene fuori una di quelle che erano diciamo sì i motivi di attenzione più forti di Mauro negli ultimi anni cioè il problema Solzhenitsyn nel 2005 Mauro aveva scritto l'introduzione all'edizione integrale poco prima di morire per la traduzione di Chiara Spano di El Padiglione Cancro pubblicato dalla biblioteca economica a Newton Compton e c'è una frase dell'introduzione che mi ha molto mi colpì subito questo libro è la denuncia della solitudine dell'individuo di fronte al destino in queste pagine ci si chiede se questo mondo non sia dominato dalla crudeltà gratuita una lettura di questo libro è assolutamente fuori da letture tradizionali questo è considerato in fondo un libro di svolta di Solzhenitsyn ecco però Mauro riusciva a tirare fuori questo aspetto molto anche umano è un grande romanzo russo la tesi della sua introduzione è breve peraltro ma molto convincente Padiglione Cancro è un grande romanzo russo dice il problema Solzhenitsyn è abbastanza complesso non se ne parla in Italia e non se ne parla più di tanto nemmeno in Russia anche se il vegliardo è ben presente nel panteo letterario e si dà da fare per animare una cordata di potere questo silenzio però è fittizio preludio a un dibattito che si dovrà inevitabilmente riaprire non fosse altro perché Aleksandr Isayevich non è destinato a campare ancora molto a lungo e la sua morte dovrà riaprire il dibattito su tutta la seconda metà del novecento russo una tua guida perché di questo si parlava di fare una sorta di guida a Solzhenitsyn potrebbe essere pronta a disposizione quando tale dibattito inevitabilmente esploderà e coinvolgerà la storia russa letteraria e politica e l'intelligenza europea occidentale di derivazione comunista che ha riuscito in molti modi all'opera di Solzhenitsyn ci vorrebbe un volumetto che affrancato da simpatie e antipatie per l'autore cominciasse a definire il suo ruolo comunque vedi un po' tu il 25 gennaio del 2001 tornando su questo argomento dice da un rapido riscontro su internet scopro che in America è appena uscita una raccolta di saggi su Solzhenitsyn a cura di Harold Bloom e che per il mese prossimo è prevista l'uscita di una nuova biografia di Joseph Pierce due libri con il comune intento di rivisitare lo scrittore mi sembra ne esca confermata l'opportunità di una guida che strappi il buon vecchio Aleksandr Isayevich dai luoghi comuni in cui egli stesso si è condannato Mauro era una persona scettica e la cosa interessante è che spesso i suoi pareri letterari erano sempre venati da una sorta di dire ma però sarà a caso di farlo e ci hanno ritrovato in una lettera del 9 dicembre 2001 mi permetto però di nutrire qualche dubbio sull'interesse dei ragazzini per i libri vedo i miei studenti qui all'università e mi rendo sempre più conto che per loro i libri sono semplici attrezzi per un mestiere che temporaneamente sono chiamati a fare attrezzi di cui liberarsi immediatamente una volta superato l'esame sono rimasto impressionato incontrando un ragazzo che dopo aver dato teoretica su Dostoevsky insisteva col direttore della biblioteca per omaggiare l'istituzione della sua copia dei fratelli Karamazov sostenendo che non gli serviva più il 20 poi beh nel 2002 uscì questo libro oltre al disgelo per la Bruno Mondadori che è un notevole successo e che poi è la prova generale del libro appunto poi dell'Enaudi il 22 ottobre del 2002 scrive in lingua italiana non esiste disponibile in libreria un qualcosa di decente su Chekhov me ne sono accorto preparando questo tascabile di teatro per Enaudi e non dicono nemmeno qualcosa da aggiornato ai nuovi studi che pur prolificano in America e in Russia ma proprio qualcosa di semplicemente intellegibile per un lettore curioso e normale pensaci un po' su il suo rapporto con l'Enaudi il 5 febbraio 2003 scrive l'Enaudi è un po' complicata stanno perdendo la bussola e soprattutto stanno perdendo ancora più la loro già scarsa capacità di reazione ogni proposta viene vagliata per mesi e naturalmente alla fine perde di appeal anche per il promotore dopodiché fanno anche delle sciocchezze sul romanzo questo è interessante perché Bruno Mondavori non pubblicava i romanzi noi discutevamo sul fatto se il romanzo fosse ancora insomma avesse ancora un senso dal punto di vista dell'editoria e il 23 aprile del 2003 scrive io però non sono convinto che veramente il romanzo e la narrativa in genere abbiamo perso l'efficacia semplicemente si è perso il codice di lettura della prosa narrativa non se ne capisce più la tecnica ne si colgono inconsapevolmente i significati dei procedimenti oggi se un lettore incontra una lunga descrizione non coglie lo stato di sospensione che essa suggerisce ma brutalmente salta le pagine smarrende il gusto della costruzione dei sentimenti e della scena d'altro canto i nuovi narratori in questo senso tutti palp inseguono senza speranza di successo la tecnica visiva e si condannano a un ineluttabile secondo piano peccato soprattutto in un periodo in cura lettura è patrimonio di pochi e non è un bene condiviso in fin dei conti in tutto il mondo esistono giovanotti e ragazze di belle speranze che fanno la fila per farsi rinchiudere in una casa quella del grande fratello in cui per quattro mesi è programmaticamente escluso la lettura la narrativa potrebbe tornare a riaffermare i suoi codici che sono peculiari ma in realtà sono gli scrittori a essere i primi estranei e questo era interessante Renaudi nel novembre del 2003 organizzò alla fondazione Sciria Venezia un convegno sulla letteratura era uscito il primo volume dei cinque volumi della 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 di questa insomma sorta di opera sul romanzo curata da da Moretti e appunto fu organizzata questa sorta di convegno sulla letteratura particolare sul romanzo Mauro andò e questa era la sua relazione ieri sono stato al convegno sul romanzo alla fondazione Cini e onestamente sono rimasto colpito da un dato comune che ormai mi sembra la vera malattia del fare cultura l'incapacità cioè di individuare un problema e di sottoporlo all'altrua attenzione tentando una soluzione o restituendone la complessità tutti i relatori avevano un quarto d'ora a disposizione e tutti si sono impegnati in temi descrittivi frutto non di insipienza ma di scelta alla fine tutto si è risolto in una gran chiacchiera sulla possibilità o meno di allargare i confini del romanzo con autori come Sebaricco e Del Giudice scrivessero romanzi schierati a falange a difesa della peculiarità europea e i critici propensi invece ad ampliare l'esperienza storica del romanzo oltre ogni limite senza nemmeno lontanamente preoccuparsi dell'indifferentismo a cui questo porta stabilito che il romanzo è quello ottocentesco francese e quello medievale cinese che cosa ha risolto Thomas Pavel la vera delusione si è inventato la formuletta c'è il romanzo là dove esiste un personaggio individuo che diventa il motore dell'azione ho sempre più l'impressione che il dibattito culturale non provi non provi più alcun gusto a suscitare problemi ma al contrario si dia riccamente da fare per confezionare dei kit di intervento adeguati ad ogni occasione in fin dei conti trenaudi è più ortodosso oggi in difesa del politicamente corretto di quanto non lo fosse ai tempi dell'egemonia marx azionista i nostri amici soffrono esattamente di questo di una certa pavidità nel non voler mai varcare i confini del buon senso di una indistinta sinistra nel 2004 invece in molte sue lettere torna il problema di Majakowski l'8 gennaio scrive devo decidirmi a fare un tascabile dei principali poemi sovietici di Majakowski per le naudi vecchia traduzione un po' rivedute di conseguenza la novità dovrebbe essere affidata all'introduzione nella quale vorrei riabilitare il buon Vladimir che esce da un quindicennio critico piuttosto problematico se non lo si vuole ridurre a un puro e semplice poeta d'amore personalmente continuo a trovarlo una delle voci più potenti del novecento il dubbio è se io sia in grado di spiegarne adeguatamente le ragioni e il 18 febbraio 2004 scriveva ripiego non appena posto su Majakowski ognuno può pensarla come gli pare ma il buon Vladimir resta una delle voci più possenti dell'ultimo secolo e passa di poesia e continuare a leggere ideologicamente è solo un segno di malattia uno degli ultimi progetti che avevamo insieme era quello di fare di estrapolare dei fratelli Karamazov il monologo del grande inquisitore Mauro pensava che appunto il fatto che questo straordinario pezzo di letteratura di filosofia stesse incastronato in quel grandissimo romanzo ci avesse impedito fino a oggi di comprenderlo fino in fondo e quindi proponeva di tirarlo fuori per per farlo capire a pieno per suscitare un dibattito su questo su questo testo del resto recentemente avete visto che c'è stato anche in Francia a teatro è stato appunto rappresentato come un testo a sé e l'ipotesi ne avevamo parlato era quella appunto di fare una nuova traduzione del grande inquisitore e Adriano Soffri che era amico che è amico di tutte e due aveva si era si era detto disposto a scrivere l'introduzione per diciamo sì suscitare una certa diciamo sì anche così parvenza di futuro quando Mauro era già in ospedale gli portai appunto le fotocopie del 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 testo russo e così passavamo un pomeriggio scherzando sull'idea appunto che appena si fosse stato un po' meglio si sarebbe buttato subito a tradurlo questo ovviamente non non è avvenuto e grazie anche all'amica Francesca Gori questo sarà un libro di Mauro che uscirà cioè noi lo faremo uscire come un libro a cura di Mauro con la traduzione di Francesca e l'introduzione di Soffri e sarà una sorta di testamento maggio che faremo a lui concludo questa cosa qui con una lettera che non avevo preso in considerazione non avevo considerato è l'ultima lettera lunga in realtà che Mauro mi ha scritto è del 28 febbraio 2005 non è una lettera sulla letteratura è una lettera di cui mi 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 prendo la responsabilità di censurare alcune cose DM in realtà ho saputo stamattina dai necrologi sui giornali e devo dire che io in realtà non sono mai riuscito a rendermelo eccessivamente simpatico salto e poi perché io invece gli avevo detto che ero molto dispiaciuto perché questa persona mi stava molto simpatica si sa demortuis nichil nisi bonum e poi non si dovrebbe morire così presto dopo aver perso anni in preda alla malattia ma i ricordi sono quello che sono e la cosa veramente isolante è che tra qualche mese in realtà il ricordo di M si appannerà nella memoria di tutti si perderà anche quella somma di punti di vista diversi il mio e il tuo per esempio che ne costituivano quel minimo di complessità che tutti speriamo di portarci appresso grazie grazie